Vi faccio vedere come si fa la sponsorizzazione La birra Henninger Una birra che va bene in qualunque occasione Anche in quelle di panico La piadete di prendermi in giro? Era il finale del panico! Ma che finale del panico? Fate via, la birra deve essere fatta così E' pestato in piedi Questa non è una birra Questa non è una lattina Questo è un mito E questo è un deficiente Senti un po' come si deve presentare la birra Ma non puoi dire Questa non è una cosa Questa non è un mito No, secondo te questa è una sponsorizzazione?